Ok, 14 al Pasanto 312 Damiano 65, non resta l'osso. Ok, 21 da 23, Damiano. Stai bene, eh? Stai bene, hai? Ok, 26 al Pasanto 413 Damiano, si arracito, distrocch Dezna, ok? Ok, mi callo è 104.9163 Ok, grazie, ronor, 73, provide 110, mobile Again, again 163 Oscar Papa, 11-0 Mobile. 26 Lima Vector, 7. Ok, 26 Lima Vector, 7, 3, 5, 5, 9, 10. Ok, thank you, 7, 3. 6, 2, 3, 5, 9, 10. 11-0 Mobile. 11-0? 163 Oscar Papa, 11-0 Mobile. 163 Oscar Papa, 11-0 Mobile. 159, ciao, grazie, Merry Christmas. 173, Merry Christmas. 6, 7, 2, 5, 100, 1, 2, 1... 29, Tango Link, Tango Kilo. 5, 29, Tango Kilo. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.